Siamo qui con Sandro Turotti, un bilancio di questa prima metà di stagione? Un bilancio sicuramente molto positivo, ha di sopra anche delle più rose previsioni fatte da tutti ma anche da noi stessi. Diciamo che ci siamo stupiti anche noi stessi, nel senso buono chiaramente della parola. Abbiamo fatto 31 punti che non aveva mai fatto dal ritorno della Serie C alla ProPatrio, perciò è il nostro piccolo record. È una cosa che sicuramente ci fa piacere perché assieme ai punti abbiamo fatto delle buone partite a livello di gioco che è stato piacevole per chi è venuto a vederci e questo è un fattore importante. Abbiamo messo in evidenza qualche ragazzo giovane, che è un'altra cosa importante per la società e qualche altro giocatore che era già con noi e si è confermato a livelli, a ottimi livelli. Però chiaramente far bene metà stagione serve poco, se non per qualche statistica e che il nostro obiettivo deve essere quello di continuare per la seconda metà di stagione perché come si usa a dire nel calcio, campioni d'inverno non rimane nell'albo d'oro, rimane quello che ha vinto lo scudetto. Perciò noi adesso abbiamo fatto un ottimo girone di andata, dobbiamo cercare di ripeterci nel ritorno e questo è il nostro obiettivo, cercare di fare gli stessi punti anche se penso che non sarà semplice. Però gli altri anni abbiamo sempre fatto qualcosa in più nel ritorno, speriamo che anche quest'anno lavoriamo per poter fare qualcosa in più, sarebbe un risultato veramente molto importante. Colgo l'occasione di fare gli auguri a tutti gli ascoltatori delle informazioni online, di Buon Natale e di un felice anno nuovo.